Scusate 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 70.000 Dollars What's he thinking this guy? Ci sta la gente che mi vuole ammazzata E ti va a prendere le lezioni di autodifesa e ci devono ammazzarti Ma hanno scritto un'offerta Piene prezzi Ma Sara Sei sicura che una taglia sta qua? Si l'ho detto 50 volte già Ok va bene Ma come sei tu bell'amica che ci sta nel testamento? Uli eh Cogli sta al setup? Si sta al setup Marilisa Questa mi conosce Hello It's me, Franco in Bolo You're from Italy Si You don't remember me No No Yeah No 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 Grazie a tutti